Ma guarda un po' che mi doveva capitare, ma dove c'è finito? Ma chi me l'ha fatta fare? Questa cammina è proprio male. Oddio, e ora come faccio a scendere? Eh, non ce la posso fare. Eh, no, no, non mi posso buttare qui, mi ammazzo. E io torno indietro, va. Oddio, mamma mia, mi pare che se viene al circo, l'equilibrisco. Ma che è sta cosa qua? Mamma mia, mamma mia, com'è dura, com'è dura sta cosa. E tanto non mi risolve niente, non mi risolve niente. Mi sto pure arrabbiato. E ora che faccio? Eh, ora che faccio? Ora che devo fare qua sì? Eh, io niente da fare. Questa non si mangia. Ecco, allora provo ad andare da un'altra parte. Vediamo un po' se è qua un po' meglio. Eh, ecco, mi stanno pure a guardare là fuori. Che figura, che figura che c'è sta a fare. Mamma mia, vabbè, fammennà. Ecco, forse ho trovato la via d'uscita. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Grazie a tutti.